Anche la popolazione non conosce quasi niente delle realtà africane. Un'altra analisi è che l'Italia non è organizzata come dovrebbe per assistere gli investitori italiani. Non ha una struttura commerciale, per fare un esempio della Francia, sono spesso assenti accordi di cooperazione che regolano tutti quegli aspetti commerciali e fiscali dell'investimento, le reciprocità tra paesi, ad esempio. Ed ecco il ruolo del diplomatico che subentra per la promozione di questi accordi e fare la promozione presso i vari operatori economici. Il Consulio Onorario, essendo residente nel paese, a differenza dei diplomatici che rimangono più o meno tre anni e non hanno sempre la possibilità di integrarsi nella realtà del paese, conosce bene il Consulio, il mercato locale, le mentalità e tutte le opportunità. Questo servizio non ha prezzo per l'investitore, ma non è sfruttato da tutti gli italiani che decidono di investire in Africa. Vengono spesso improvvisando e lanciandosi, diciamo così, in operazioni e poi quando finisce male, naturalmente, perché non hanno preso precauzioni sin dall'inizio. Un'altra analisi. Il contesto africano del lavoro soffre di formazione professionale, preparazione adeguata di artigiani e di una manodopera specializzata. Posso parlare perché come impresario ho avuto l'opportunità di dare una formazione tantissimi beninesi. Ci vuole passione, spirito di sacrificio e molta generosità e altruismo per offrire le tue competenze e i consigli. Devi esire come un padre di famiglia, in pratica. L'impresa deve comunque organizzarsi, è doveroso questo, con dirigenti locali per essere competitiva. Solo così avrà una manodopera quantificata e costi competitivi. Ultima analisi. Come console ho organizzato a suo tempo un'associazione di beninesi che si erano laureati in Italia, quando all'epoca c'erano ancora interessanti borse di studio e un anno di lingua a Perugia, prima di proseguire il cursus scolastico. Perché l'Italia ha interrotto questo tipo di esperienza? Forse bisognerebbe ripensare la cosa. Se non sono borse di studio dello Stato, possono venire certe fondazioni che fanno da sponsor o con grosse imprese, ad esempio, piacerebbe una visione di investire su delle risorse che possono poi recuperare o tramite università private riconosciute e affermate nel mondo intero. Conclusione. L'Africa è un cantiere aperto, con mille opportunità, certo, ma in un contesto difficile da gestire. Si può investire nei seguenti settori in particolare, agroindustria, turismo, materiale di costruzione, piccola industria, equipaggiamenti, macchine esostriali, attrezzature varie, eccetera. L'Italia ha bisogno di diversificare il trasferimento delle sue produzioni di fuori dell'Asia e durante questa crisi sanitaria si è rivelato praticamente unico fornitore estero. Il Benin, come altri paesi africani, si posiziona come paese stabile sul mare e in pieno sviluppo economico. L'installazione di imprese italiane sarà interessante per le due parti. L'Italia porta il suo savoir-faire e le sue competenze tecnologiche e potrà approfittare di una manodopera qualificata e a basso costo e avere la facilità di esportare le produzioni. L'Africa si sta sempre più regolamentando attraverso numerose riforme per attirare investimenti stranieri. In Benin, come in altri paesi, diciamo così, che sono un po' all'avanguardia in queste riforme, posso citarne, ad esempio, adozione di un quadro giuridico per il partenariato pubblico-privato, revisione della legge sugli appalti pubblici, creazione di zone economiche speciali con vantaggi fiscali e doganali, snellimento delle disposizioni del codice di lavoro più liberale, riforma del codice fondiario, questo è un vero problema per chi vuole investire nell'agricoltura perché al di fuori delle città dove anche se uno viene all'estero può acquistare la sua parcella, tutto il resto è proprietario dello Stato, non puoi acquistare, diciamo così, ettari importanti al di fuori per fare per investire. riforma della giustizia con tribunali commerciali assolutamente, riforme per modernizzare l'amministrazione attraverso il codice digitale, tanta digitalizzazione, riforme per rendere più attrattivo il codice degli investimenti e semplificazione del processo di creazione e di formalizzazione delle imprese. In 48 ore puoi fare l'impresa oggi. Grazie. Sto concludendo ormai. Vorrei dire una parola solo sul Fondo per l'Africa istituito dalla legge 232 dell'11 dicembre 2016. Questo fondo stanzia 200 milioni di euro per interventi straordinari volte a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i paesi africani di importanza prioritaria per le rotte migratorie. Gli interventi mirano ad assicurare la piena cooperazione con i paesi di origine e di transito dei flussi migratori nel quadro di un'azione integrata di politica estera che valorizza la centralità del continente. Vi ringrazio. Scusa se sono stato un po' lungo. Sono a tua disposizione. Grazie. Tra l'altro ha toccato dei punti fondamentali da quello della mancanza di una strategia politica per accompagnare le imprese piuttosto che quella della narrativa che ovviamente Sita prima diceva del rapporto di fiducia. Difficile riuscire a costruire un rapporto di fiducia se non sia una fotografia incoraggiante da parte dei media e della politica italiana verso il continente ma anche quello della formazione che nei primi due interventi si è dato molta importanza a quella che è il trasferimento del know-how e la formazione anche delle specie di studio che effettivamente negli ultimi anni sta diventando sempre più difficile riuscire a far venire gli studenti africani in Europa ma anche il ruolo dei consoli e della diaspora che vivendo sul territorio ha la possibilità di cogliere le opportunità e i bisogni in modo più nonché in ultimo quello delle regolamentazioni è vero ultimamente negli ultimi anni l'Africa sta facendo dei grossi sforzi sia globalmente che come singoli paesi per riuscire a regolamentare meglio e stilare degli accordi bilaterali con gli stati e in questo come Italia siamo molto indietro che è l'aspetto che non facilita e non rassicura le imprese italiane verso le attività del continente poi ci sarebbe da fare un grosso dibattito perché in realtà ci sono degli altri stati verso i quali si fa business nonostante non ci siano gli accordi non ci siano problematiche di stabilità e via dicendo grazie ora passerei la parola a Yusef Elganadi che è un architetto ed è entrato a far parte nel 2016 dello studio internazionale di architettura Teco e partners con cui collabora tuttora da tre anni svolge attività di ricerca e didattica sulle smart city nell'ambito di un dottorato industriale presso l'università di Parma e l'università internazionale di Rabat dove tiene corsi come docente a tempo determinato nel 2018 ha fondato l'associazione no profit My African Competition dunque a Yusef io chiederei l'Africa è ovviamente il continente con un più alto tasso di crescita demografica ma anche economica e questo impone anche un ripensamento alle strutture abitative quindi quali opportunità economiche per l'Italia e quali in termini di sostenibilità e formazione per le economie africane e in questo il ruolo della diaspora nel trasferimento del know-how visto che sei anche un docente quindi l'importanza e la necessità di creare dei pertenerati che portino anche un reale trasferimento del know-how intanto vi ringrazio per questo invito sono veramente molto lieto di far parte di questo webinar e di di conoscere più punti di vista cioè non solo dal diciamo da parte della africa italiana ma anche italo-africana come come ha diciamo correttamente esposto il dottor d'italiano se non mi sbaglio sì prima di iniziare sì io so vengo da una formazione come geometra come dottor d'italiano e come dici giustamente c'è proprio un assolutamente la differenza enorme tra quello che è il geometra italiano e il geometra diciamo la francese il geometra italiano fa anche progettazione eccetera eccetera ha un diciamo lavora in uno spettro più ampio e riprendo quello che ha detto inizialmente cioè che oggi l'Africa non è solo ignorata dal punto di vista mediatico ma dà in quel in quel poco spazio mediatico da un errata percezione di questo continente perché il continente è visto non come un'opportunità ma lo si associa soprattutto all'immigrazione all'immigrazione clandestina quindi proprio c'è c'è un approccio culturale errato e quindi non c'è una base su cui puoi lavorare per creare una connessione quindi questo è secondo me il problema fondamentale io più che parlare di diciamo un nuovo sistema un nuovo concept di abitazione all'africana che può derivare ovviamente da tanti fenomeni tra cui crescita demografica eccetera io parlerei più che altro di città oggi le città a livello globale occupano il 2% del territorio ospitano il 50% della popolazione mondiale e sono la causa dell'80% di emissione di carbonica quindi capite bene che hanno un impatto incredibile sia dal punto di vista socio-economico sia dal punto di vista ambientale il bisogno di questo fenomeno è molto più accentuato nel senso oggi il miliardo e 200 milioni di abitanti in Africa di cui 500 milioni abitano nelle città e entro il 2025 c'è la questa queste persone quindi questa percentuale raddoppi e quindi oggi l'Africa e le sue città quindi che ospitano la maggior parte della popolazione si trovano di fronte a delle sfide possiamo dire epocali queste sfide epocali questa insostenibilità deriva soprattutto da due fenomeni diciamo precisi e circostanti cioè la crescita demografica che è una delle più alte a livello globale c'è anche un altro problema cioè la diaspora della popolazione quindi lo spostamento della popolazione dai villaggi quindi dal contesto rurale verso le città quindi questo è essenzialmente un grosso problema e oggi l'Africa ha la possibilità di dare una una risposta diversa a quella che è stata data in Europa o in generale nei nei paesi più sviluppati oggi oggi deve pensare più che l'area soprattutto sulle città quindi espandere la città quindi mangiare tra virgolette altro territorio perché non fare diciamo fare una riflessione al contrario andare a sviluppare quelli che sono i villaggi che circondano le città evitando il fenomeno della diaspora ok verso le città quindi il fenomeno dell'inurbamento è un qualcosa che noi stiamo provando qui qua c'è un concept che si chiama IDWAR quindi il villaggio intelligente dove noi portiamo la tecnologia a casa quindi le persone senza doversi spostare grazie alla telemedicina informazione e servizi che si possono ovviamente dare e oggi la pandemia ci dà cioè ci fa vedere usando il digitale quindi le tecnologie IT o IT possiamo ovviamente sviluppare in maniera sostenibile dei territori sia rurali che ovviamente urbani quindi questo è ovviamente è un tema un po' più complesso un tema più ampio però è che noi dobbiamo imparare e quindi come africani dobbiamo imparare dagli errori fatti in Europa in America in Asia per poter dare una risposta sostenibile a quelli che sono i nostri problemi perché quei problemi li hanno già rischiati e noi possiamo imparare dei loro errori in questo caso si inserisce molto bene il trasferimento del know-how quindi ci deve essere un primo approccio culturale prima che sia economico perché se noi ci approcciamo che come hanno detto prima di me il fatto di portare dei macchinari vendere eccetera eccetera non funziona più perché l'Africa ha già bisogno di un approccio più soft amichevole tipo trasferimento di know-how attraverso la formazione e l'informazione quindi informarli di certi fenomeni formarli a far fronte a questi fenomeni e e poi puoi pensare a tutto quello che è ovviamente diciamo business eccetera eccetera questo lo facciamo noi abbiamo vissuto un'esperienza molto interessante in questo caso con una multinazionale italiana che è H-Software noi stiamo sviluppando la strategia digitale per il Marocco che concerne il settore delle costruzioni il settore delle costruzioni con H-Software la nostra ONG ha siglato un accordo per portare questa realtà qui in Marocco e generalmente in Africa dove si organizzano dei momenti di formazione per i professionisti locali momenti di formazione attraverso dei webinar eccetera eccetera e piano piano c'è questa come si dice introduzione soft culturale e poi ovviamente arriveranno assolutamente i risultati e noi l'abbiamo visto nel senso che l'Africa ha molto potenziale ha molto da dare però ovviamente non è l'Asia non è il Medio Oriente ok perché molti pensano vado lì faccio business io ho dei prodotti italiani quindi vendo appena metto piede non è così assolutamente l'Africa non è il Medio Orientale non è l'Asiatico quindi io dalla mia esperienza che ho diciamo che ho maturato qui in Marocco quindi tornando cinque anni fa dall'Italia perché io sono cresciuto in Italia ho molto background italiano però ovviamente origini africane e in particolare marocchina quindi ho creato questa associazione anche per questo obiettivo cioè un incontro culturale prima che prima di altri diciamo di riferirsi ad altri altri concetti o altre dimensioni grazie Yusuf infatti sposo esposiamo come come le reso questo il tuo primo punto quello dell'approccio culturale che è fondamentale ed è difficile riuscire a far capire a far radicare però è la chiave per poter poi costruire delle relazioni anche la fiducia passa attraverso il rispetto e il riconoscimento della cultura dell'altro e quindi riuscire a anche il trasferimento del know-how adattarlo in funzione delle delle culture interessante anche quello del imparare dagli errori degli altri in effetti il vantaggio conosci bene Cantù è di Cantù i vostri microfoni per cortesia quando non avete la parola grazie e dicevo il vantaggio di partire di arrivare dopo è quello di poter imparare dagli errori degli altri non sempre è facile però effettivamente concordo con te quando dici che comunque riuscire a guardare a quello che è successo altrove anche in in ottica di impatto ambientale permette di riuscire a costruire ad evitare gli errori e fare un qualche cosa che sia maggiormente sostenibile una domanda al volo secondo te il la diaspora dai villaggi alle alle città può cambiare in in epoca covid assolutamente sì soprattutto in momenti di emergenza in cui si è potuto sperimentare diciamo quello che è il potenziale delle tecnologie digitali oggi oggi noi facciamo formazione a distanza addirittura ci sono esperienze di telemedicina quindi quando quando ovviamente non anche in Italia nel senso quando non si riusciva ad andare dal medico c'erano delle offerte quindi delle piattaforme su internet in cui tu avevi una consulenza a distanza quindi c'è questo potenziale in cui hai un minore impatto finanziario economico perché ovviamente consulenza a distanza non è come la consulenza ovviamente diretta poi ovviamente la consulenza diretta è sempre importante però potrebbe arrivare dopo è come quando si va al pronto soccorso c'è un primo filtro quindi se c'è urgenza ci orientano ovviamente verso l'ospedale se non è urgente ovviamente la cosa può essere si può risolvere e quello che succede adesso nel senso nei villaggi da l'esperienza che noi abbiamo avuto qui in Marocco e nella periferia di Casa Blanca abbiamo avuto un riscontro assolutamente positivo soprattutto nella promozione dei prodotti locali grazie all'e-commerce nel senso che tu puoi vendere il tuo prodotto a livello internazionale nel senso che ti riferisci a un mercato internazionale che non è neanche più locale quindi hai anche questo ritorno dal punto di vista diciamo economico oltre che sociale grazie e continuamente a quanto si pensa a livello di tecnologia comunque l'utilizzo della tecnologia in ASCII che è molto avanzato e diffuso passerei ora alla parola a Gerard Ress che è un ragazzo di origine togolese ingegnere civile infrastrutture aeroportuali ha completato il suo ciclo di studi tra il 2014 e il 2018 con laurea triennale magistrale più l'abilitazione professionale e tra le attività che ha svolto abbiamo il lavoro di ampliamento a Venezia di Marco Polo One Works e a Fiumicino Leonardo Leonardo Da Vinci pavimenti SPA a Gerard chiederei come le diaspore e le nuove generazioni come possono essere ambasciatori della qualità del brand Italia per un'Africa ormai avviata lo sviluppo di infrastrutture in grado di sostenere lo scambio intracontinentale perché è ovvio che soprattutto alla luce del covid dovremmo ripensare anche il nostro modo di fare commercio e l'Africa sarà costretta sviluppare il commercio intracontinentale per cui dovrà anche sviluppare tutte quelle catene di distribuzione che oggi non ha e inoltre su quali opere pubbliche costruire una partnership strategica tra Italia e paesi africani ok grazie grazie a me grazie mille buonasera a tutti naturalmente potrei dire ad essere sincero non ho preparato quasi niente quindi andrei proprio distinto e mi permetterete anche di divulgare un pochino di più sull'argomento intanto sono tre domande quindi inizierò prima a rispondere alla prima domanda e poi se mi perdo una mi potete anche ricordare diciamo intanto noi nuove generazioni diciamo già spure che siamo qua in Italia abbiamo un potenziale forte diciamo però risulta che facendo un filtro diciamo partendo dal 2010 come anno di riferimento per me quelli iscritti che sono ragazzi africani e quelli che escono fuori con laurea con diciamo un'abilitazione professionale ed essere inseriti nel mondo di lavoro per diciamo vari motivi quelli che rimangono di più quelli che sono abbastanza studiosi che proseguono che vanno in fondo tipo anche come i nostri i miei predecessori noi abbiamo un potenziale abbastanza forte di poter già parlare l'italiano bene dopo aver studiato tanti anni avendo appreso dall'istruzione diciamo italiana avendo appreso dalla cultura abbiamo un potenziale abbastanza forte servendo un po' di legame fra l'Italia e l'Africa allora noi abbiamo parlato dell'Africa ma dobbiamo ricordare anche che l'Africa ha 53 paesi quindi anche se abbiamo i valori uguali africani ogni paese è solidario in sé con le sue prescrizioni le sue leggi le sue riforme e quindi noi per noi e per me ad essere ottimista proprio ti dico di sì che siamo in grado di poter portare giù in Africa le nostre le culture perché ormai siamo metà italiani metà africani ma serve parlare anche di due punti il primo punto riguarda un po' ciò che possiamo fare in Italia cioè la relazione Italia Africa ma in Italia cioè l'Africa noi in Italia in secondo punto diciamo la relazione come Italia Africa ma in Africa cioè cosa che noi possiamo fare sia in Italia che in Africa perché siamo intermediari il nodo deve trasferire diciamo forse valori deve essere come un ponte e se questo ponte non c'è non c'è relazione non c'è diciamo non c'è traffico non c'è proprio sviluppo diciamo e quindi noi come figure tecniche ingegneri medici che hanno sviluppato studiato abbastanza che hanno valori importanti abbiamo il dovere di poter andare avanti dimostrare i valori italiani dare una mano diciamo all'altra fascia di stranieri che sono immigrati quelli che hanno un livello di istruzione abbastanza minore rispetto al nostro ma deve avvenire comunque grazie a un aiuto un aiuto dello Stato diciamo una messa in valore a noi quindi credere alle nostre potenzialità e una parte un punto importante è quello che stiamo facendo adesso l'organizzazione di questi webinar che non deve mai fermarsi mai deve essere sempre organizzata toccare punti importanti e fare parere varie figure che hanno cresciuto che sono che hanno maturato le informazioni diciamo le istruzioni le conoscenze in Italia perché questo è anche un frutto dell'Italia spesso stiamo un po' nascosti perché media la stampa non va a parlare di noi e quindi dobbiamo iniziare a fare un lavoro personale quindi lo Stato deve inserire in noi dei valori diciamo accompagnare i nostri progetti e anche sviluppare un linguaggio tipo un dialogo di potenza un dialogo forte diciamo abbastanza potente un portale di dialogo abbastanza potente dove noi sempre noi di Ascoli nuove generazioni possiamo anche essere figure importanti lì a portare avanti i valori italiani con tanti anni di esperienza dopo i nostri lavori le cose che abbiamo compito e a metterci in confronto con i tecnici ingegneri medici quant'altro tutti gli altri italiani metterci in confronto e andare in Africa andare in Africa non è poco andare tipo ogni giorno così ma garantire una presenza forte una presenza frequente in ogni paese africano perché l'Africa è l'Africa è il continente ma ogni paese è singolare in sé stesso se posso dire quindi un portale di linguaggio abbastanza potente abbastanza forte perché per poter trattare serve un dialogo questo dialogo ovviamente per facilitare i trattati se parliamo la stessa lingua riusciamo a facilitare meglio rispetto alla Cina che non è che dico l'Italia deve copiare la Cina ma deve anche avere spunta prendere esempio su le strategie della Cina per intervenire in Africa a quell'epoca prima la Cina non aveva tanti diaspori ma andava singolamente in tutti i governi diversi e a concludere accordi l'originalità italiana c'è e è rispettata diciamo fra tutte le opere che stiano al mondo dall'arte l'architettura tutte queste cose le opere che fanno gli italiani ma alla fine serve anche un approccio strategico verso tutti gli altri paesi ma questo deve venire tramite noi per forza perché il vantaggio ce l'hanno che siamo noi e in più andrei a dire anche che queste opere che possono essere importanti cioè di sviluppo di trattamento di collaborazione fra l'Italia e l'Africa possono essere a livello del settore infrastrutturale a livello di aeroporti sviluppo di aeroporti ma anche la rete ferroviaria diciamo che è abbastanza secondo me un futuro da sviluppare collegando tutti diciamo maggior parte dei paesi importanti dal cono dell'Africa verso l'altra parte e dal nord a sud diciamo anche le opere diciamo di protezione costiere diciamo se non sbaglio 1970 già le coste subivano già un avanzamento dell'acqua quindi anche protezioni costiere vanno studiate come opere da fare per poter collaborare salvare le vite salvare le città in Africa queste sono le cose che l'Italia può fare che è in grado di fare ma serve per forza una messa in valore cioè un intervento misto cioè fra come posso dire un intervento misto partendo da noi più i tecnici ingegneri architetti tutti gli altri che stanno qua che sono italiani abbastanza bravissimi ma pure noi siamo bravissimi e lo dobbiamo dimostrare come lo stiamo facendo adesso e come lo state facendo tramite questo web in più a cavallo ci possono essere opere minori per poter dimostrare che l'Italia sa fare qualcosa ma ogni tanto fare dei lavori o delle opere di agricoltura di opere di accesso all'acqua e anche un sostegno alla sanità perché comunque l'Africa o tutti i paesi diciamo dell'Africa sono in via di sviluppo ma comunque c'è anche sempre la carenza diciamo di nuove tecnologie e via via mano a mano si può anche iniziare a parlare della manutenzione la formazione dei giovani delle persone ma questo deve sempre avvenire anche tramite noi se dobbiamo parlare se noi dobbiamo intervenire perché noi parliamo la stessa lingua italiana e possiamo anche trasferire conoscenze verso le persone in Africa e poi anche un'altra cosa non so se mi lasciate finire un'ultima cosa che un secondo che posso aggiungere che secondo me deve essere considerato in Italia è la creazione di portali strumenti di dialogo potente per valorizzare le persone un tot di esperienza che hanno fatto in università che si iscrivono sui portali portando i progetti che interessano sia l'Africa che l'Italia o non soltanto anche l'Africa ma basta che sia straniero qua e cercando di fare un progetto per istruire creare persone e istruire i rifugiati immigrati e farli inserire in modo anche in modo di lavoro di intervenzione rapida per sostenere persone quando ci sono le calamità naturali queste sono le ideologie che possono essere sviluppate diciamo e quindi l'argomento è abbastanza grosso quindi mi fermo qua non so se ho risposto tanto ma sono a disposizione grazie grazie è ricorrente il trasferimento del know-how poi comunque noi dimentichiamo sempre che l'Africa proprio per la sua crescita demografica sarà non solo il continente dove andremmo ad attingere un po' la mano d'opera ma soprattutto sarà il continente dei consumi e questo è difficile un po' farlo capire in Italia l'altro punto che è toccato che secondo me è quello chiave è quello della valorizzazione delle diaspore che è un altro difetto che non riguarda solo l'Africa ma in generale l'Italia a differenza dei suoi competitor valorizza poco le diaspore quando potrebbero essere invece quelli che potrebbero accompagnare e facilitare tanti processi passerei ora quindi la parola Francis Donbu che nasce in Cameroon ed è in Italia da 30 anni si laurea in ingegneria elettronica presso l'Università Roma 3 e da 10 anni attivo nel settore dell'automotive in generale ma nel problem solving in particolare e lavora attualmente presso Maserati come quality engineer dunque a lui io chiederei allora negli ultimi anni diciamo che il continente africano ha mostrato anche il crescente numero di milionari l'Italia è risaputo essere è risaputa essere anche una nazione che produce eccellenze e prodotti di alta gamma anche nel settore automobilistico quindi se dovessimo proiettarci in un orizzonte temporale di 5-10 anni cosa possiamo fare noi come diaspora e nuove generazioni per accompagnare le aziende italiane ad acquistare una fetta di mercato prima che sia troppo tardi perché i nostri competitor in quanto a acquisire fette di mercato sono tutti già presenti quindi cosa possiamo fare concretamente noi per accelerare e cercare di occupare o mantenere alcune fette di mercato ok innanzitutto buonasera a tutti grazie per l'invito Meret grazie per la domanda è molto interessante prima di rispondere alla domanda appunto quello che volevo invitarvi a riflettere è questo dato qui che ho visto sulle vendita auto degli ultimi anni sostanzialmente in Africa attualmente il parco autocircolante è di 34,2 milioni e solo l'Italia ha un parco autocircolante di 39 milioni quindi parliamo di un dato molto significativo per renderla ancora più esplicita in Africa vi dico che abbiamo 27 vetture ogni 1000 abitanti mentre in Italia ne abbiamo 645 ogni 1000 abitanti ora non so quello che leggete voi da questo dato ma io sostanzialmente l'ho vista come un'opportunità e da questo vorrei partire per cercare di rispondere alla tua domanda innanzitutto come diaspora e come canale per essere un veicolo di importazione del made in Italy in Africa quello che dobbiamo fare sicuramente è strutturarci strutturarci significa sapere chi fa cosa nel senso che dobbiamo sapere chi di noi raccoglie dati raccoglie dati perché il dato sulle vetture vendute sui paesi dove vengono vendute su cosa la gente acquista in Africa milionari e non è una base di partenza fondamentale perché ci dice qual è la fotografia dello stato del stato dell'arte di quello che vogliamo andare come prodotto a importare poi il passaggio successivo come diaspora è avere un'analisi dei dati chiaramente perché ci permette di capire i motivi per i quali abbiamo quell'informazione lì lo scarso utilizzo delle vetture piuttosto che la difficoltà di utilizzo in varie zone dell'Africa che è un problema chiaramente che può essere approfondito e poi dobbiamo mettere insieme questi dati e fare un progetto significativo per portare questo tipo di mettiamo una cosa in made in Italy a chi può fare l'interfaccia verso l'Africa altra cosa che posso dirvi per rispondere alla domanda sempre è che in questo momento in Africa abbiamo pochi concessionari che generalmente sono quel canale che permette a un OEM di fare la vendita verso il cliente perché il concessionario è l'interfaccia il concessionario è l'ente che fa una campagna di promozione per esempio quindi questo aspetto va valutato e vanno capite le ragioni della mancanza è un po' questo che grazie mi chiedevo mentre tu ponevi la domanda su quali sono le ragioni perché non ci sia una campagna un concessionario quindi una campagna di comunicazione se il problema non fosse che in Italia a livello di comunicazione non possono esistere degli africani ricchi questo è un po' il leitmotiv e il motivo per cui ci si concentra molto sul fenomeno migratorio e quindi del problema anziché andare a vedere quelli che sono gli ambiti anche delle opportunità e in questo senso avere una raccolta dati e aggiornare attraverso dei dati concreti il sistema imprenditoriale italiano potrebbe essere anche una soluzione per invogli per aiutarli anche a vedere in un'ottica diversa il continente più che diversa allargare lo sguardo perché come abbiamo sempre detto noi non intendiamo nascondere quelle che sono le difficoltà del continente ma ci piacerebbe che si vedessero anche quelle che sono le opportunità per tutti grazie intanto ricordo sia agli amici che ci seguono su Facebook che qui che potete postare le eventuali domande e i vostri interventi in chat rifarei un giro di domande ma questa volta molto breve a tutti quanti i nostri relatori e partirei proprio di nuovo da te Francis e parlando di qualità che l'abbiamo toccata qualche minuto fa secondo te qual è il livello in termini di qualità del rapporto commerciale Italia e paesi africani e in che modo ne potremmo come ONG e di Aspora contribuire ad elevare il livello di qualità ok parto parto dalla definizione della parola qualità sempre consenti la qualità se vogliamo non è altro che il livello di soddisfazione dell'utilizzatore di un prodotto sul prodotto il discorso è adesso per rispondere a questa domanda l'approccio più semplice da fare si chiama survey survey non è altro che interpellare un un do customer relativamente a un prodotto che sta utilizzando capire di cosa è soddisfatto e di cosa no quindi a livello di diaspora possiamo agire in questo senso capire se c'è la possibilità di avere delle survey con feedback rapidi su determinati aspetti e determinati prodotti e in termini di rapporto se dovessimo invece dare un livello di qualità al rapporto Italia paesi africani domanda difficile sì è difficile è difficile ma in questo momento io non io direi che c'è una c'è un rapporto da migliorare sicuramente in termini di qualità questo rapporto è sempre dovuto all'assenza di comunicazione su tanti aspetti grazie Gerard allora tu prima parlavi anche del livello di preparazione della formazione delle figure professionali presenti in Italia e in Italia è risaputo che ci sono tanti ingegneri africani tant'è che esiste anche l'associazione degli ingegneri africani e paradossalmente anche se potremmo fare di più sono quelli che sono riusciti a bucare il mercato perché abbiamo diversi ingegneri che sono posizionati bene in diverse aziende ed anche da lungo periodo a Roma abbiamo degli ingegneri che sono in aziende importanti sin dagli anni ottanta quindi così come per i medici piuttosto che gli avvocati mi chiedevo in che modo possiamo a livello di figure altamente professionali creare un ponte tra realtà aziendali italiane accademiche e istituzionali tra l'Italia e l'Africa proprio per magari facilitare anche l'orientamento professionale dei giovani africani è sempre una domanda tosta diciamo quando dico tosta è perché cioè anche adesso quando dico difficile da realizzare non sarebbe giusto perché siamo comunque sulla strada ma crea delle nuove tecnologie scusami se dico tecnologie delle nuove dei nuovi forum dei nuovi gruppi delle nuove associazioni diciamo all'epoca non c'erano questi prima e adesso piano piano ci stiamo facendo conoscere certo e in più di questo serve un lavoro da fare cioè io dico personalmente non aspettare sempre anche se siamo in Italia una collaborazione per forza da se usatemi se mi permette questa parola dai italiani cioè nel senso dai figure tecniche italiane perché in realtà sono abbastanza bravissimi ma lo dobbiamo dimostrare anche a noi tramite altri progetti altre innovazioni creare cose che possono essere interessanti a loro punto di vista e anche loro possono usare quello e saremo noi a prenderli a questo punto e portarli anche in Africa portarli in Africa interessati servire di di ponte fra loro e nostre associazioni amministrative di governo diciamo e quindi quando dico creare qualcosa non è sempre aspettare sempre l'iniziativa che dovrebbe arrivare dalle figure tecniche italiane e noi diciamo no facciamo la stessa cosa creiamo l'associazione italiana l'associazione africana così così possiamo anche iniziare personalmente noi a decidere su nuovi progetti ma che possono anche dare una mano all'Italia che può essere qualcosa che alla fine sarà vista come associazioni di africani in Italia hanno creato questo che alla fine dà frutto e quindi in stampa in giornale inizieranno a parlare di noi ma che non sarà una cosa breve ma che sarà una cosa continua come dicevo prima creazione di un portale di pronto intervento diciamo fra le figure tecniche ingegneri medici che sono in Italia africani stranieri e collocare e collocare anche quelli dalla trafascia dei stranieri che una volta istrutti da noi educati diciamo dalla lingua italiana nelle varie materie di sicurezza di salvataggio possiamo anche addestrarli per dire portali è una grossa cosa che sto dicendo non è una cosa immediata ma portali a fare un pronto intervento tipo all'anno in Italia ti sono senti delle calamità un maltempo quando le persone in casa si intrappolano e quindi noi possiamo anche mandare le persone là salvare altre persone che è una buona cosa servire di supporto ai vigili del fuoco anche ma non è soltanto un lavoro di forza ma riguarda un aggiornamento del ritaglio studio tecnico per poter intervenire questa è un'idea ma che si è vista in Italia diciamo e poi via via nasce anche quella fiducia diciamo per poter sbloccarsi lavorare insieme e andare in Africa ma quando dico in Africa sempre sempre ogni paese perché l'Africa è un continente e quindi non so se ho risposto bene alla domanda però me lo puoi anche rifare se c'è qualcosa altro da dire cercherò di rispondere grazie 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 mille passerei Yusuf al quale chiederei ovviamente come diceva un po' anche Gerard noi parliamo sempre di Africa dimenticando che stiamo parlando di un continente di 54 paesi e con anche diverse velocità e in relazione alle velocità ci sono ovviamente degli stati che stanno a uno stadio più avanzato mentre altri devono ancora raggiungere un livello un po' più accettabile in che modo quindi possiamo relazionarci e quali triangolazioni possiamo creare per superare sia le barriere linguistiche che quelle economiche sfruttando le diverse velocità dei paesi del continente eccomi eccomi qua allora sì sicuramente diciamo l'Africa è una realtà molto sfaccettata nel senso che ovviamente ci sono realtà come in Nord Africa e il Marocco in particolare ci sono altri casi come diciamo i paesi del Sahel eccetera eccetera quindi ovviamente ci sono ci sono realtà diverse nonostante ovviamente nonostante l'Africa sia un continente unico eccetera io parlo per esperienza mia per quanto riguarda diciamo il Marocco in particolare io ho seguito nonostante ovviamente io sia di professione architetto e faccio docenza eccetera però ho avuto anche la possibilità di seguire alcune realtà italiane quindi alcune aziende che sono venute diciamo in Marocco hanno investito alcune sono tornate indietro alcune hanno fatto successo e quello dipende assolutamente dalla strategia uno conoscere la realtà in cui si vuole andare a operare quindi conoscere bene la realtà quindi non generalizzare l'Africa non è un blocco unico come si pensa non è un paese è un continente dalle mille sfaccettature quindi prima di andare diciamo di muoversi bisogna assolutamente conoscere la realtà e come posso conoscere la realtà per non avere quell'effetto shock nel senso io vado in un paese che non conosco metto piede ed è quello che succede ed è il nostro ruolo come diaspora da fare da filtro e da da essere il punto di riferimento perché noi veniamo da due realtà diverse noi siamo siamo diciamo degli ibridi possiamo dire cioè nel senso noi siamo l'insieme di due realtà noi siamo italiani siamo cresciuti abbiamo una mentalità italiana ma siamo anche di origine africana quindi conosciamo bene cioè nel senso ce l'abbiamo nel sangue c'è chi è nato in Africa c'è chi comunque vive una realtà africana con la propria famiglia quindi noi possiamo essere quel ponte assolutamente quindi per poter conoscere una realtà di un paese bisogna ovviamente affidarsi a persone come noi cioè una nuova generazione della diaspora italo-africana e mettere su assieme a queste persone una strategia perché ci vuole una strategia di lungo di medio e lungo termine nel senso che non è facendo delle azioni non è il fatto di avere in mente un progetto non è solamente il fatto di avere diciamo le disponibilità economiche per poter portare avanti un progetto vi faccio l'esempio a Casablanca tutti gli anni c'è il salone del design italiano è il si chiama è il Medinit ed è un evento conosciuto abbastanza conosciuto lo fanno in Cina lo fanno negli Amirati e lo fanno in Africa lo fanno a Casablanca e quello è un tipo di concept che non funziona tanto bene perché è un salone che dura tre giorni in cui ci sono degli espositori arrivano queste realtà italiane mostrano i loro prodotti e dopo tre giorni tornano a casa quello è il mordifuggi quello non funziona assolutamente perché non si conosce la realtà si va giù con uno stand come dicevo alcuni imprenditori mi dicevano ma no ma noi andiamo in Bahrain e vendiamo tutto quello che abbiamo nello stand è tutta un'altra cosa cioè mi dicevano ma a noi arrivano questi sceichi e ci pagano cash e ci prendono tutto no assolutamente non è il Marocco non è l'Africa e in questo salone addirittura perché vengono invitati ovviamente personalità africana non è solo Marocco quindi quindi quello ad esempio è un concept errato tre giorni arrivi esponi e credi di diciamo penetrare penetrare un mercato mentre conosco delle altre realtà che sono venute giù con l'aiuto di elementi della diaspora quindi i soggetti della diaspora hanno messo su una bella strategia di medio e lungo termine hanno avuto fiato quindi pazienza hanno investito realmente quindi hanno formato della gente ok per produrre il loco e ci sono aziende che adesso fatturano un milione di euro per dire sono delle aziende che sono partite con poco e adesso fanno dei fatturati importanti un milione di euro in Marocco dopo due anni è un super obiettivo cioè quindi è conoscere la realtà farsi orientare e aiutare dalla diaspora anche perché quando tu hai a che fare con un elemento o un soggetto della diaspora tu sai che quella persona è in Italia risiede abita ha la famiglia quindi è anche un modo per diciamo tutelarti non è come andare in un paese e cominciare ad avere a che fare con delle persone locali senza con delle regole locali in cui tu come società come imprenditori non sei assolutamente tutelato invece quando tu hai a che fare con una persona che abita vive cresciuta in Italia tu sai che qualsiasi problema tu hai la cioè quindi questo intanto per tutte e poi ovviamente cercare delle fette di mercato vedete in cui c'è c'è domanda questo ovviamente è naturale grazie grazie mille torna ancora la strategia avere una strategia sia politica che aziendale per approcciare all'Africa torniamo in Africa da chi rappresenta bene la diaspora italo-africana e quindi al dottor Gobbo chiederei cosa allora è venuto fuori diverse volte in questo nostro ora e mezza di webinar la necessità di valorizzare le diaspore ma anche di avere una strategia di mettere lei nel suo discorso iniziale ha detto che nel 2016 c'è stato questo tentativo di rimettere al centro dell'agenda politica italiana l'Africa ma concretamente mi sembra che dal suo discorso non sia stato fatto molto quindi le chiedo cosa servirebbe concretamente e seriamente all'Italia per mettere i mercati africani e le diaspora e le ONG nei radar delle aziende italiane e del sistema Italia Oddio risponderti diciamo un bel discorso che venirebbe diciamo così preparati ma è importante partenariato non partenariato come si conosceva diciamo così diciamo in precedenza perché l'Italia avendo la reputazione di detenere un ottimo savoir faire artigianale moderno nell'ambito dell'agricoltura dell'agro business del tessile della moda è ben riconosciuto questo il made in Italy bisogna lavorare dei modelli di partenariato che si formino di tutti questi savoir faire queste tecnologie per farne dei prodotti dei marchi e dei modelli capaci di portare dei vasti cantieri di sviluppo in Africa l'Italia ha la grande chance non solo di commerciare ma anche di porre il suo marchio tecnologico ora potrebbe essere con un miglior partner africano in conclusione si tratterebbe di innovare e trasmettere l'antico savoir faire italiano e ci sono poche strutture anche per rispondere o per andare diciamo su quello che stava dicendo l'amico Youssef veramente professionali che vi possano aiutare a investire che vi prendono per la mano e vi aiutano diciamo ad avere il buon partner vi aiutano ad avere diciamo a conoscere il mercato e ci sono poche strutture io ne conosco diciamo diciamo così qualcuna sia in Benning e in Italia ad esempio c'è una struttura che esiste dal 2012 a Treviso si chiama ETC io ho già operato diciamo anche con loro che sono strutture oggi diciamo che operano con Sace ad esempio con Simest siamo qua nella cooperazione diciamo italiana si preoccupano di conoscere di penetrare prima diciamo così un certo mercato diciamo africano per apportare le soluzioni sotto forma di finanziamenti sotto forma diciamo così come si dice di avere dei buoni partner sia in Africa che in Italia o attraverso il 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 credito nell'export o attraverso diciamo così partner anche diciamo così in funzione di certi appalti di certi diciamo così bisogni diciamo così a livello diciamo così dei paesi africani difficile risponderti di più ti potrei parlare meglio ma va bene così diciamo che ce lo diciamo sempre poi prima o poi dovremmo magari in una sede anche diversa cercare di trovare il modo per di mettere in pratica tutto quello che da anni stiamo dicendo tutti ma che di fatto non riusciamo a fare e col tempo stiamo lasciando spazio a tutti dobbiamo seriamente interrogarci come mai riescono ad arrivare tutti facilmente in Africa nonostante le barriere linguistiche economiche di stabilità l'Italia sembra quasi avere il freno a mano grazie mille e passerei per chiudere con il giro dei relatori tornerei da Sita e ovviamente la domanda non può non essere legata al mondo femminile quindi il ruolo della donna nel processo di internazionalizzazione e soprattutto quali sono le opportunità per le donne che operano a cavallo tra l'Italia e l'Africa allora domanda abbastanza interessante ultimamente anche a seguito diciamo di una mia missione in Costa d'Avorio in particolare ho visto che intanto in generale possiamo dire che l'urolo della donna che sia in Europa o in Africa ancora fa fatica a diciamo a trovare spazio anche se in realtà l'economia reale in particolare nei paesi africani è detenuta appunto va in mano alle donne insomma sono le donne che animano l'economia quella reale quella di tutti i giorni il mercato informale eccetera però quando si tratta appunto di diciamo di parlare a livelli più alti quindi abbiamo parlato di agroindustria abbiamo parlato di smart city eccetera c'è comunque sia ancora una preponderanza diciamo della figura maschile nei livelli decisionali ma nei livelli anche diciamo trattativa eccetera e quindi ma questo penso sia un problema globale culturale che non riconosce molto spesso la donda ha il suo giusto valore allo stesso tempo posso dire che in Italia dalle mie esperienze dalle mie conoscenze i miei contatti ho visto che per quanto riguarda la diaspora africana per quanto riguarda le nuove generazioni le donne sono molto più attive hanno diciamo una sete tra virgolette un po' più più grande di volere diciamo creare veramente questi ponti che siano sociali e economici con il continente quindi ci troviamo in un contesto in cui abbiamo le donne che sono pronte a diciamo sono pronte a lavorare il doppio e lavorano il doppio per poter colmare questo gap eccetera che ci portiamo dietro da un po' di tempo e dall'altra parte abbiamo delle realtà locali che ancora non rendono giustizia almeno da quello che io ho potuto constatare cioè non voglio generalizzare e non rendano giustizia appunto a diciamo a quello che la donna è e quello che apporta la donna nell'economia africana quindi questa è un po' la mia riflessione penso che non bisogna neanche diciamo avere un approccio bipolare in cui si dice la donna sì la donna no perché bisogna fare le cose solo fra donne o diciamo solo gli uomini possono portare internazionalizzare eccetera però bisogna trovare delle sinergie per far sì che si possa cioè ognuno possa avere il proprio ruolo e ognuno possa diciamo porre in essere tra virgolette il proprio il proprio potenziale insomma grazie a Sita quindi creare quelle sinergie che valorizzino il potenziale di ciascuno dunque io adesso lascerei la parola a due elementi della della diaspora lascerei prima la parola a Madani e poi a Madù per fare un sunto su questa prima fase e poi passerei alle domande che sono tante e gli interventi quindi Madani prego sì eh grazie allora due parole però non ho sentito una cosa che mi sembra un po' un po' strana c'è una cosa che bisogna dire bisogna dirlo veramente francamente agli operatori italiani dovete completamente cambiare il modo di percepire l'Africa dimenticatevi tutto quello che vi si è detto sull'Africa perché se rimanete con quello in testa non capirete niente dell'Africa questa è la prima cosa che gli voglio dire io ho avuto la fortuna di lavorare con la società italiana qui in Guinea che è forse l'ultimo paese africano almeno dell'Africa dell'Ovest ad entrare diciamo nella nell'economia liberale vi posso garantire che tra quello che si pensava a nord dell'Italia dove era questa società e quello che abbiamo potuto fare in Guinea il primo mercato che abbiamo avuto l'abbiamo avuto con l'Unione Europea per 7 milioni di euro quindi già questo per la direzione in Italia era un miracolo invece non c'era nessun miracolo dove era il noccio della cosa è che io sono 100% italiano e 100% guineano quindi quello che succede in Guinea lo capisco quello che succede in Italia lo capisco quindi era il ponte giusto per poter arrivare a quel risultato lì ed è quello il ruolo della diaspora di poter permettere agli italiani di capire l'Africa e agli africani di capire l'Italia una volta che abbiamo capito questo basta essere in una posizione di ascolto perché per esempio leggevo quello che scriveva il dottor Zannin prima qual è le cifre che dà la Banca Mondiale su ogni paese africano è la realtà dell'economia reale dei paesi ma c'è un vero è da capogiro perché 70% per minimo se non è 80 o 90% dell'economia reale africana è informale quindi non entra nelle cifre della Banca Mondiale dell'FMI e di non so cosa non c'entra perché le statistiche che dovremmo avere dai nostri paesi non le abbiamo non esistono le conosce in qualche cosa le conosciamo soltanto noi che siamo sul terreno e che abbiamo che lavoriamo direttamente con le imprese o con il sistema nel quale stiamo le donne esempio semplice l'anno scorso in Guinea si diceva che la la crescita in Guinea era stata del 8-9% ma questi 8-9% non erano mica la crescita dell'economia guineana magari no rappresentavano soltanto investimenti fatti dai società minerari nelle loro miniere quindi quello che avevano importato in quanto macchinari personale cose che dovranno servire a far funzionare queste miniere tutto qui ma nessun impatto sull'economia quindi quando la banca mondiale dice che la guineana ha fatto una crescita del 6-7% l'anno scorso ma non è vero per niente l'economia guineana si e no avrà fatto una recessione di 2% quindi bisogna stare molto attenti alle cifre che si sentono e bisogna assolutamente trovare veramente il modo di fare in modo che ci sia veramente un ponte tra la diaspora in Italia e la diaspora in Africa soltanto questo ponte qui ci permetterà di fare gli investimenti che vogliamo fare grazie grazie Madani Amadou non è disponibile per cui Cleo volevi dire tu due parole prima di passare alle domande sì diciamo che ho seguito un po' il dibattito in scatto da Zanin che sono anche giuste nel senso che sono anche il pensiero di tantissime realtà italiane sul continente e noi giustamente cerchiamo attraverso questi eventi di portare un altro punto di vista un punto di vista che potrebbe dovrebbe aiutare l'Italia a tornare o a ritornare sul continente perché chiaramente essendo anche italiani si interessa molto la possibilità di poter avere più presenza italiana che in altri paesi ma è una cosa che penso è abbastanza naturale e normale io sto guardando quando seguivo la pagina del dottor Vittaliano Gobbo e vedevo quel bellissimo progetto questo ospedale forse Vittaliano potrebbe dire qualcosa di altissimo livello che deve partire adesso in Burkina Faso ogni giorno se l'inaugurazione di una strada o di una strada che deve partire è la stessa cosa che si vede l'altra volta in Senegal hanno ricevuto un sacco di autobus perché chiaramente stanno cercando di rinnovare il parco per il trasporto urbano perché chiaramente ci sono tante macchine che sono vecchie e inquinano molto l'atmosfera quindi quando io guardo quello che si fa sul continente e sento parlare la gente qua ho l'impressione che sono due mondi diversi come si parlava della situazione del Covid si sentiva sarebbe stato la catastrofe tanti morti no vediamo ancora oggi che non è ancora capitato non cruciamo le dita che non capita ma è chiaro che a volte si raccontano delle cose che non sono completamente vere uno che lasora nel continente sa benissimo che c'è una distanza enorme tra quello che si dice e quello che si vive non dico che non sono cose che a volte non sono vere ma è chiaro che da quello che si racconta e quello che si vive nel continente a volte sono cose diverse e poi se hai la grande giusta il contesto giusto riesci anche a fare delle cose senza problemi quindi il nostro intento nell'organizzare con webinar ma anche nell'organizzare con gli eventi è dire usciamo dal racconto superficiale che purtroppo gira sul continente andiamo davvero nei territori confrontiamoci con le persone e l'italiano racconterà perché mi piacerebbe che tornasse anche a dire due cose su quello che sta facendo quel presidente il presidente sarà tempo sì glielo faremmo fare è molto importante che si parla di questo perché adesso vediamo in benin in cinque minuti chiederei all'italiano di raccontare quello che sta facendo il presidente per capire che non si è fermato il paese malgrado la situazione attuale malgrado il fatto che si parla ancora di covid e di problemi a livello economico e questo quindi io vorrei sentire tre quattro minuti italiani che racconta quello che sta facendo il presidente talon e poi lo faremmo fare grazie Cleo per correttezza visto che l'avete chiamato in causa lascio la parola a Zanin che aveva anche una domanda per Gobbo e me se non mi sbaglio e una per Assita grazie grazie Meret e grazie Cleo io condivido tutte quelle che sono le posizioni i punti di vista io quello che ho cercato di lanciare erano degli spunti sostanzialmente di riflessione su quella che è la crisi economica che comunque anche giù perché anche in Italia sostanzialmente si lavora in Europa si lavora ma c'è una una decrescita estremamente forte su quella che è la parte la parte economica di produzione quindi che ha innescato una sostanziale recessione e da quelli che sono un po' gli studi e quant'altro che ho potuto leggere nel corso di questo periodo nel continente africano c'è da quello che noto e da quello che oltre modo giornalmente vivo io lavoro sui trasporti internazionali in particolar modo sui sui grandi progetti di impianti in tutto quello che è il mercato in tutto quello che è il continente africano quindi dal corno d'Africa al Sudafrica dalla Repubblica Centrafricana al Togo al Benin alla Nigeria a Rwanda all'Eritrea e quello che pongo fondamentalmente come domanda come spunto di riflessione questa crisi sta mettendo effettivamente a dura prova quelle che sono le prospettive di crescita e di sviluppo del continente questo sicuramente questa situazione dal mio punto di vista e da quella che è un'analisi meramente personale questa crisi sta mettendo a dura prova e potrebbe innescare un aumento della povertà e di quella che è l'insicurezza e la diaspora in previsione aumenterà questa è una delle domande e quali prospettive ci sono per gli investimenti esteri nel continente cioè i prezzi delle materie prime sostanzialmente sono crollati l'esportazione e il turismo in tutti quelli che sono i paesi fondamentalmente evocati all'esportazione e al turismo nel continente africano si sono fortemente ridotti quindi la contrazione interna darà oltremodo il risultato di una riduzione delle entrate fiscali che sono già basse e la spesa pubblica quindi per mantenere fondamentalmente quella che è la struttura dei singoli stati dovrà fondamentalmente essere aumentata e quindi per mitigare chiaramente quello che è l'impatto della crisi sulle famiglie e su quelle che sono le imprese quindi un altro spunto che io ho portato all'attenzione è quello di dire ma i problemi di liquidità potrebbero influenzare la capacità di servire sostanzialmente il debito sovrano e se non adeguatamente affrontati dai vari paesi potrebbero eventualmente innescare anche una crisi di solvibilità e una conseguenza crisi del settore finanziario contraendo ulteriormente quelli che sono gli investimenti nel continente grazie a tutti dell'attenzione grazie Meret e grazie Cleo dell'opportunità ma io intanto prima di passare la parola ai relatori dico che la situazione è critica a livello globale nel senso che comunque andiamo incontro a una situazione di recessione e credo che Cleo abbia condiviso ad esempio il documento della task force messa su dall'Unione Africana per gestire un po' quella che è l'emergenza ma anche non dobbiamo dimenticare tutti i fondi che stanno arrivando dalle fondazioni africane private quindi è vero che ci sono delle crisi ma dall'altro c'è anche l'opportunità per gli stati africani di sviluppare il commercio intracontinentale che quindi dovrebbe sopperire a quella che è la dimensione della domanda però ho sempre la sensazione che lo stesso problema visto in alcune parti del mondo ha un peso visto in Africa viene elevato all'ennesima potenza anche in questo tornando riallacciandomi a quello che diceva anche un po' Madani bisogna cambiare l'approccio verso l'Africa bisogna avere una relazione più paritaria sembra quasi che dal lato italiano da forse in questa seconda repubblica abbiamo iniziato a guardare sempre più con maggior diffidenza e anzi solo in modo con estrema diffidenza a tutto quello che riguarda il continente e questo ci sta allontanando da quelle che sono le opportunità ci sta offuscando anche la visione e di conseguenza anche l'approccio poi per il resto lascio la parola sia a Italiano che a Sita che mi sembrava che erano le due persone alle quali aveva indirizzato le domande l'italiano il microfono chiuso hai completamente ragione in quello che stai dicendo cioè in Italia gli italiani non conoscono niente dell'Africa scusa in generale come te l'ho detto nella mia prima esposizione in media non fanno niente in media si interessano della cronaca di casa loro e naturalmente dell'americano Trump che ne so e di queste e di queste situazioni nessuno parla dell'Africa e di quello che succede in Africa e da come le cose stanno evolvendo tutti sono meravigliati da come è gestita la crisi noi per primi guarda io sono qua io vedi sono passato anch'io per il covid sono passato con una forma leggera ma l'ho avuto anch'io ad esempio per dirti ma la cosa è gestita benissimo ad esempio qua e anche in altri paesi africani forse perché le frontiere sono gestite meglio forse perché a livello di aeroporto le cose si fanno molto seriamente e questo anche in altri paesi non solo nel Benin un'altra cosa forse l'africano è già diciamo più 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 protetto perché già diciamo così prende della della clorochin tu sai che queste queste medicine sono le prime che ti immunizzano venendo a quello che diceva il dottore ho dimenticato il nome Zanin il dottor Zanin ha fatto una bella esposizione ha fatto sicuramente ma non cioè noi che stiamo vivendo dentro stiamo constatando che la cosa è gestita bene anche a quel livello lì infatti ci sono varie fondazioni varie privati locali che sono chiamati diciamo così al cappessale diciamo così di questa situazione anche banca mondiale ad esempio qua il presidente ha detto no non voglio che mi azzeriate il debito come aiutate del debito il debito me lo gestisco io datemi piuttosto finanziamenti sono pronto a impegnarmi ancora di più perché possa diciamo portare avanti le mie infrastrutture e far lavorare la gente anche a livello informale le cose come diceva prima penso penso Cleo c'è tantissimo informale che non si riesce diciamo così a controllare che è da mangiare diciamo così Cleo mi ha chiesto prima di parlare di infrastrutture sì il nostro presidente attuale con la sua visione strategia diciamo così ci fa vedere che con una buona gestione con una buona governance si possono fare parecchie cose e in Africa ci vogliono governi forti nonostante sia considerato diciamo così anche qua un laboratorio di democrazia ci vogliono governi forti ci vogliono presidenti forti che sappiano dove vanno che sappiano creare le condizioni giustamente l'importante è battersi anche contro tutta questa diciamo corruzione far vedere che cose diciamo vanno avanti perché chi vuole investire vuole trovare un terreno diciamo così propizio a tutto questo ed è quello che sta succedendo diciamo qua ha parlato dell'ospedale ha parlato questo ospedale che sta incominciando adesso perché la prima idea di investire su grosso ospedale è per evitare che i deputati la gente debba andarsi a fare a farsi curare in Francia spendere parecchio diciamo così per fare spazierare le persone e piuttosto investirle diciamo così in opere del genere quindi l'idea buona è la Francia già marciato dentro la Francia che investe con tutte le assicurazioni e pagando su 10 diciamo 15 anni la sanità la sanità come l'educazione come le infrastrutture c'è parecchio da fare sono tutte queste diciamo le cose che bisogna sviluppare per poter diciamo poi attirare diciamo più investimenti non c'è tempo altrimenti ti avrei parlato più diciamo dell'agricoltura sappi che avremo altre occasioni per farlo l'Africa sarà il granaio sicuramente il prossimo granaio diciamo così mondiale ci sono tante cose da fare per l'Italia e anche per l'Italia che ha tutto questo sauer fare con gli equipments tutto tanto c'è tutto un discorso importante diciamo lì apri una parentesi c'è parecchio da dire comunque assita no io credo che il dottore abbia esaurito diciamo l'argomento quindi non ho altre cose c'è qualcuno c'è qualcuno degli altri relatori che vuole intervenire su questo nessuno lascerei la parola a Bertrand che ha alzato la mano se non mi sbaglio che vorrebbe intervenire Bertrand sì chiedo perdono volevo intervenire sull'argomento che è più importante quello della diaspora diciamo che noi siamo da quello dagli interventi che si sono fatti durante questo webinar si è capito che è primordiale è importantissimo l'argomento dell'argomento culturale che ovviamente noi della diaspora dobbiamo spingere perché cambi il modo di ragionare io vedo sempre quando si parla in generale d'Africa che i discorsi vanno soprattutto o chi interviene sull'Africa sono sempre principalmente e chiedo perdono del discorso un po' partigiano se non rassizza che parlino sempre diciamo gli italiani che hanno una visione a volte molto parziale di quello che succede in Africa io l'altra volta mi sono noi noi abbiamo un potenziale importante esempio come in Africa come il sole l'energia rinnovabile non capisco mai perché l'Italia che è leader mondiale senza dubbio di rinnovabili non sia presente in Africa e io ho sempre voluto e tra l'altro ho chiesto una volta a un CEO di un'importante azienda azienda che fornisce o comunque che tratta le rinnovabili per quale ragione ci fosse questo questo gap di questa mancanza di coraggio di investire in un campo così importante qual è sempre il discorso culturale purtroppo noi dobbiamo cercare di cambiare questa cosa e portare noi diaspora afro-italiana portare la parte imprenditoriale italiana a credere e a scommettere sempre di più verso l'Africa soprattutto in questi campi che a volte io vedo l'ultima l'ultima notizia colletta sul campo energetico è di un'azienda tedesca che sta per aprire una filiale in Camerun che è il mio paese e quindi mi chiedo ma perché non un'azienda italiana perché quella mancanza di coraggio l'azienda tedesca aprirà una mini centrale idroelettrica in Camerun con la diaspora allora mi chiedo e ritorno alla domanda quanto quanto noi possiamo fare ma il problema è nostro della diaspora o è il problema di una di una cultura italiana che non vuole cambiare che non si vuole adattare ai cambiamenti della sua società insomma quindi era il mio intervento grazie a voi grazie chi vuol rispondere dei relatori posso rispondere io posso dare qualche risposta non per andare incontro a tutto quello che dice il collega ma ha pienamente ragione questo da tanti anni che si vede che non c'è audacia non c'è voglia non c'è c'è sempre una tipo ci siamo trascurati diciamo e quindi alla fine non c'è voglia di poter andare avanti a crescere un po' il loro business ma anche a sviluppare le cose in Africa dobbiamo tenere presente che anche l'Italia non ha tante colonie diciamo quindi ha quella parte in svantaggio rispetto a tutti gli altri paesi però allo stesso momento devo prendere esempio dalla Cina quello che dicevo io che non aveva colonie ma è riuscito a conquistare l'Africa alla fine posso dire anche a livello di personale di persone umane che sono in testa a capo alle aziende qua imprenditori che si limitano a loro stessi qua noi cosa possiamo fare è questione di volontà volontà politica volontà di fare se uno vuole crescere con il suo business il suo saper fare o crescere il suo patrimonio deve cercare anche di coinvolgere noi soprattutto verso l'Africa e anche essere presente fortemente presente sempre sempre presente ma in Africa in tutti i luoghi in tutti i paesi interessare gli altri purtroppo è questione di volontà e noi penso sono visegioso che piano piano questa cosa migliorerà perché anche l'Italia non è pronta e con tutte diciamo problematiche in questi ultimi anni spero me lo auguro io che piano piano siamo sulla strada che tutto può andare bene e piano piano si interessano si svegliarono tardi e sarà tardi però qualcosa si può guadagnare sia per noi che per loro grazie un altro tra i relatori intanto io volevo dire che è un po' assurdo e dovremmo anche riflettere se tutti gli altri tutte le altre relazioni non siano un po' come posso dire masochiste o scellerate dal momento che continuano a fare business con gli stati africani se qualcuno riesce a farli evidentemente la situazione non è così drammatica e colgo l'occasione anche per rispondere a Nino Sergi qui non è l'intenzione non era quella di negare gli argomenti che aveva portato in discussione il dottor Zanin piuttosto quello di equilibrarli la rivendicazione è quella di dire è possibile che si guarda sempre solo agli aspetti negativi e mai alla parte positiva e non cogliere le sfide nessuno dice che sia facile che vada tutto bene però diciamo che se gli altri riescono a farlo perché non dovremmo farlo anche noi come italiani o afro italiani o italo africani le potenzialità ci sono anche il discorso dei fondi che non ci sono se gli altri riescono a trovarli evidentemente ci sono dei canali che noi non abbiamo esplorato o ci facciamo offuscare troppo la mente da quelli che sono le difficoltà che spesso vengono purtroppo a livello mediatico dipinte in modo molto esasperato e come diceva l'italiano prima non si è mai o raramente si legge sui quotidiani o si vede in televisione un servizio su situazioni di eccellenza in Africa sui progetti portati a termine anche di altri ultimamente la Francia poco fa il collega diceva che ha poche colonie la Francia oggi sta aggredendo la parte dell'est eppure lì non erano presenti oggi si stanno avvicinando la Turchia nonostante non abbia la facilità linguistica riesce a penetrare i mercati africani e come il mondo del mondo arabo l'India per non parlare di Cina Russia possibile che l'Italia sia l'unica che non riesce in un modo o nell'altro a penetrare e forse la soluzione sta in quello che aveva detto dei governi africani di italiano i governi forti dovremmo iniziare anche a pensare se il problema non sia quello di una carenza di continuità politica e di governi forti tali da poter accompagnare e definire una strategia che accompagni le aziende qualcos'altro Cleo c'è qualcun altro che aveva chiesto di intervenire nella chat no qui no non vedo nessun no avevo letto una domanda sugli strumenti finanziari però non la ritrovo più Donald che chiedeva se c'erano strumenti finanziari e come come avere informazioni su quegli strumenti finanziari Donald dosso credo e qualcuno vuole dei relatori vuole rispondere a questa domanda se non rispondo io diciamo che come diceva anche Madani che è andato abbiamo sia a livello italiano europeo che africano tantissime realtà che investono abbiamo la Siemens e Sacek sono realtà che stanno cercando comunque di accompagnare le imprese italiane in Africa e anche di fare investimenti nel continente abbiamo la casa di posti per assetti che si sta anche organizzando per accompagnare quel tipo di realtà che è anche legato a Siemens e Sacek se poi si va in Africa abbiamo sicuramente le banche come la Banca Africa di sviluppo la BAD o le banche regionali che hanno anche loro prodotti finanziari per accompagnare quel tipo di azioni io direi al signor Donald di venire il 9 così faccio un po' di pubblicità il 9 10 a Roma durante la quarta edizione di Italia Africa Business Week dove chiaramente si faranno dei panni ad hoc su come esistamente trovare strumenti finanziari contributi per andare a fare business tra l'Italia e l'Africa e grazie non mi sembra ci sia altro io ripartirei da Sita facendo poi il giro di tutti i relatori con una battuta velocissima per chiudere Sita Zanin che voleva dire qualcosa scusa allora Zanin prego io chiedo scusa se sono solo scritto adesso per intervenire io volevo porre perché si è parlato sostanzialmente di investimenti e si è parlato poi di relazioni e quindi quella che è la strategia sostanzialmente che l'Italia to cure può avere nella visione strategica di partnership in Africa in particolar modo io mi riferisco al corno d'Africa Etiopia Eritrea Sudan che un po' per l'Italia rappresentano la storicità del nostro del nostro paese però quello che noto nel corso di tutti questi anni e nel corso del succedersi dei vari governi che l'Italia sostanzialmente ha come può essere per si parla sempre di investimenti in infrastrutture strategiche a differenza di altri paesi quello che l'Italia ha denotato nel corso di questi anni è che cambiando i governi cambiano le infrastrutture strategiche cambiano cambiano le infrastrutture strategiche ma cambiano poi e invece le infrastrutture strategiche e quindi come sono quelle che sono le partnership strategiche devono rimanere sempre quelle scambiano i governi e cambia e questo va bene quindi cambia la modalità politica con cui si arriva allo scopo ma non si può continuamente cambiare strategia partnership e individuazione di quelle che sono le infrastrutture strategiche in questo caso per dirne una quella dei porti perché purtroppo quello che denoto è quello che c'è un continuo cambio di visione in quella che è la strategia in quelle che sono le partnership nel mercato e questo nel lungo periodo non porta a nulla assolutamente a nulla solo una grandissima confusione in quella che è l'approccio che lo Stato e l'Italia ha nei confronti dei paesi grazie mille concordo perfettamente ricordo e l'abbiamo detto anche in un altro in un'altra circostanza che al mondo l'Italia è la nazione che detiene il più alto tasso di scontinuità politica di stabilità politica l'Italia al mondo è il paese che ha il più alto tasso e questo ovviamente incide sia nella politica interna ma ancora di più su quella estera io prima di passare la parola in chiusura ai colleghi volevo anche dire che è un paradosso che leggevo stamattina un articolo che diceva appunto che in Africa c'è un grosso spreco di cibo dovuto alla carenza della catena di rinforzazione l'Italia è per eccellenza la nazione che non solo riesce a trasformare ma riesce a trasformare un prodotto di origine straniera in suo vedi il caffè piuttosto che altre situazioni ed è paradossale che non veda nemmeno in questo un'opportunità in una realtà in cui il mercato interno è saturo in cui l'unico come dicevamo italiano l'unico terreno coltivabile è rimarrà in Africa e l'Italia che non riesce nemmeno in quella fetta dove è al top a cogliere l'opportunità e quindi riuscire a creare una strategia che accompagna tutte le piccole e medie imprese anche portando il know-how per la come modello di business Assita prego una battuta per in chiusura dopodiché in italiano poi Yusuf Gerard e Francis grazie per chiudere quello che direi appunto è di dare maggiore fiducia tra virgolette e di riconoscere le competenze diciamo delle nuove generazioni della diaspora perché come abbiamo visto dopo tutti questi discorsi sono appunto importanti per appunto diciamo la conquista o comunque sia l'avvicinamento dei mercati africani quindi fiducia nelle competenze nella nostra expertise e il riconoscimento appunto delle figure professionali delle nuove generazioni della diaspora quando perché ce ne sono tante niente ringrazio appunto per questo invito ancora e saluto tutti grazie a te Vitaliano sì scusate prima ho avuto un problema diciamo con internet come capita anche purtroppo anche ancora spesso anche in Africa non ho seguito quindi l'ultimo dibattito volevo solo dimmi si mere no dicevo solamente che siamo in chiusura quindi chiedeva tutti voi una battuta di chiusura breve ok l'obiettivo come dicevo durante la mia presentazione è quello di aiutare le imprese ad estendere dunque la loro impronta in Africa e questo insisto si può fare oggi affidando un mandato a qualche rara struttura di consulenza riconosciuta e affidabile in Africa Mered volevo dirlo prima questo non l'ho detto c'è bisogno di avere delle buone entrate dei reso bisogna saper cogliere gli affari bisogna saper fare certe frequentazioni e questo è questo che funziona soprattutto a parte la gara classica di appalto anche quando vendi le grandi gare anche le grandi imprese e così che fanno ti posso fare qualche esempio ma non ti voglio dare nomi diciamo oggi una grossa impresa anche italiana che viene se non ha anche il piccolo contatto piccolo berinese voglio dire che lo porta al buon politico può essere Lenin può essere non so chi certo non lo farà quindi volevo un po' chiudere dicendo dicendo questo dicendo anche che sono disponibili se ci sono altre questioni che le omi può scrivere ho certi indirizzi certi consigli diciamo che posso dare non solo diciamo per il Benin ma in particolare per il West Africa per orientare aiutare grazie comunque grazie a te grazie a tutta la squadra e a presto grazie grazie a lei l'aspettiamo il 9 il 10 e l'11 anche ok la mascherina ok sì certo grazie Yusuf Yussef eccomi eccomi vi seguo allora io intanto vi ringrazio per avervi coinvolto in questo dibattito molto interessante abbiamo diciamo visto più punti di vista e un dibattito ricco io quello che consiglio diciamo è per per chiudere io invito le realtà italiane quindi imprese società studi ingegneri di architettura venite fate come fanno gli altri fate come fanno i turchi i francesi che sono a casa loro nel senso quelli non hanno neanche bisogno di intermediari abbiate il coraggio di investire in questo continente giovane e con molto potenziale perché potreste perdere il treno e poi e poi diciamo avere dei rimorsi quindi vi vi invito veramente a credere e a credere nella diaspora che potrebbe essere il ponte grazie mille grazie Gerard tutti hanno detto le cose che volevo dire che io e quindi confermo sono d'accordissimo e vorrei aggiungere qualcosa che riguarda la volontà politica la volontà nel fare siamo tutti esseri umani diciamo quindi anche se cioè se tu hai una volontà puoi fare qualsiasi cosa lasciamo stare i investimenti io non ho parlato di queste cose perché li devo per scontato tutto sta nella volontà quindi noi sappiamo che c'è interesse 50-50 anche inizialmente 60-70-40 e alla fine arrivare 50-50 c'è interesse dalle due due parti quindi se uno ha la volontà politica la volontà generale può fare qualsiasi cosa quelli che sono già qua sono Saipem, Eni tutti anche Ena Venac queste io non ho parlato di queste cose perché li davo per scontato quindi tutto sta nella volontà Grazie a me Gerard no scusa Francis Eccomi allora intanto riprendo da quello che hanno detto gli altri ringrazio per l'invito a mio avviso è stata una discussione molto interessante con tanti temi vorrei dire molto delicati e sensibili toccati per quanto riguarda quello che mi porto dietro da questo webinar è il fatto che ha senso secondo me far sì che questa discussione sia una base di partenza per le prossime che significa questo significa far sì che i contenuti di questa di questa riunione siamo trasparenti per le prossime persone che invidi o comunque chiunque abbia già partecipato secondo me è un piccolo consiglio per noi la diaspora in generale per tutti i componenti del team quindi ringrazio ancora Grazie molto quindi in conclusione abbiamo tirato fuori il discorso di avere maggior fiducia nella diaspora di espandere l'imprinting dell'Italia nel continente e creare delle reti che possano permettere alle aziende italiane di penetrare il mercato fate come gli altri abbiate coraggio di investire la volontà politica senza la quale le persone difficilmente riusciranno a portare dei grossi incisi di cambiamenti e la condivisione del contenuto in modo tale che poi possa essere una base per le discussioni future ho dimenticato di dirlo all'inizio ma in realtà tutto il lavoro che stiamo facendo con questi webinar delle branding Italy in Africa saranno appunto la base per una discussione un po' più ampia proprio nelle giornate del forum il 9-10 e in webinar l'11 di novembre io vi ringrazio lascio la chiusura a Cleo così mi riposo un po' anche la la gola e spero di vedervi tutti a Roma il 9-10 di novembre o anche in conference call grazie a Meret grazie a tutti soprattutto a tutti i relatori ai partecipanti a tutti quelli che hanno partecipato a questo webinar anche quelli che hanno partecipato da remoto quindi da Facebook anche commenti che sono stati fatti durante la diretta Facebook come ha detto come ha detto Meret abbiamo il 9-10-11 di Italia Africa Business Week che è la quarta edizione e sono sicuro che sicuramente si troveremo insieme all'interno di questo evento molto importante per giustamente parlare di Italia Africa e parlare di come possiamo rilanciare l'Italia nostra perché questo è molto importante verso l'Africa nostra quindi comunque questo desiderio di creare un rapporto d'amore che non è soltanto business ma anche cooperazione e capacità di creare sviluppo qui e là è stato molto importante anche il dibattito tra il dottor Zanin e tutti gli altri ma questo è anche l'obiettivo perché ognuno di noi ha un punto di vista e bisogna trovare il compromesso giusto il confronto franco e trasparente per creare la strada che può portare l'Italia all'Africa se non ascoltiamo la parte africana se non teniamo conto dal punto di vista della parte italiana diventa difficile creare veramente la sinergia che serve perché è insieme che possiamo in qualche modo creare la strada che potrebbe sostanzialmente riportare quella relazione che manca da molto quando sentiamo tutti quelli che hanno lavorato con l'Italia da 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 tanti anni mi ricordo al primo Italia Africa Business Week il presidente della Confindustria emaliana diceva io tutte le opere fatte dagli imprenditori italiani ancora oggi si sono e funzionano benissimo quindi quelli che hanno lavorato con l'Italia e che sanno cose d'Italia sanno che fanno cose di altissimo livello che funzionano e dura nel lungo tempo il presidente diceva io voglio la qualità costa pago quindi dobbiamo iniziare giustamente a ritornare a ragionare ma poi chiudo vendere l'Italia che conosciamo io a volte ho l'impressione che alle difficoltà che abbiamo a livello relazionale quello che manca è cose d'Italia se tu chiedi a un africano di qualsiasi paese non pensa all'Italia come una potente industriale che può portare a qualcuno quindi è più difficile venire in Italia che andare in Cina in Turchia o altrove in Francia invece arriverà veramente il messaggio di cose veramente in Italia in alcuni settori soprattutto come diceva il dottore italiano nel settore agricolo ma non solo nella logistica nell'automobile nella parte anche legata al biomedicale io sono sicuro che piano piano si tornerà anche a vedere l'Italia e porterà i strumenti imprenditori africani a cercare tessere relazioni con gli imprenditori italiani quindi bisogna continuare la comunicazione che potrebbe aiutare a quel tipo di attività quindi vi ringrazio a tutti vi aspetto all'Italia Africa Business Week alcuni di voi poi vi chiameremo per alcuni panel sulla quale stiamo lavorando diceva Zanin che ci piacerebbe anche fare un panel sulla logistica quindi poi confrontiamo su quello ma tutti voi siete comunque per noi esperienze professionali che possono servire a raccontarmi con le relazioni che stanno cercando di portare avanti grazie buon weekend a tutti e buon appetito per quelli che comunque devono mangiare fra poco bye bye grazie a tutti ciao 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 ciao